Buonasera, 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 benedito. Buonasera, 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 benedito. Buonasera, 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 buonasera Poi verranno proiettate delle depositive scattate negli anni 70, dove praticamente ci sarà un confronto tra quello che è la situazione attuale e la situazione dell'ora. Vi accorgerete che ci sono delle spiagge che non esistono più, ci sono, da dopo, in alcuni pratti, cambiate addirittura il percorso, quindi si è modificato l'areo, e sono poi vengono riempiati anche altri percorso. Poi, proseguendo con la scaletta, ci saranno proiettate delle fotografie d'epoca, ecco, che poi sono queste, dove praticamente sicuramente qualcuno di cui si rivedete queste fotografie, noi ne abbiamo scelte alcune, ecco, proprio perché interdoppio allora, mi dicevano, ecco, che era proprio una meta di fotografico, perché si andava interdoppio, tranne sono state fatte sul ponte, proprio perché si andava via, si passava la fotografia. Poi ci sarà una bellissima video, fatto quest'anno, a luglio 2018, dal signor Sisti, che è proprio bellissimo, dove proprio si tocca con mano quello che è, sono, insomma, i rumori che il nostro comente ci regala, e alla fine ci sarà una sorpresa, a parte di quanti vuoi, ecco, cos'è almeno, ecco, prendiamo la serata, una nota un po' più allegra, ecco. Tutta la serata è stata commentata da degli esperzi, che sono Tino Cucchi, i nostri associati, che è Tino Cucchi, che inizierà proprio lui per la parte tecnica e spiegherà tutto il discorso iniziale, poi ci sarà Maurizio, anche lui, che è il nostro associato, che ci spiegherà, insomma, le varie situazioni, Giovanni, che è la parte tecnica delle depositive, si occupa delle depositive, e Francesco Sisti, che anche lui, ci ha dato una grandissima mano, e anche lui commenterà la parte fotografica e la parte del video. Bene, io finisco qua, ecco, ci renderemo dopo per le ringraziamenti e le rassolative. Vi ringrazio ancora tutti quanti voi che siete benvenuti, sono contentissimo che la sala è piena, e quindi vuol dire che sono qualcosa che sono giornata di nuovo, che non avrebbero fatta l'ordineo. Vi diamo a tutti una buona serata, e, insomma, la ecco, sì, speriamo di passare a tutti i pazienti.